Buongiorno, mi chiamo Gabriele Tampellini e sono un personal trainer libero professionista e mi occupo della formazione e certificazione di personal trainer di primo e secondo livello per la FIPE. Sono qua oggi per la prima volta, non avevo mai incontrato scienze motorie come organizzazione dal vivo. Sono piacevolmente sorpreso del livello dell'organizzazione, veramente assoluto, preciso e veramente incredibile. Altissimo il livello dei relatori, sono molto contento di vedere che tantissime delle teorie spiegate convergono su un punto fondamentale che è quello della soggettività e dell'individualità e quindi dell'attenzione sull'individuo smantellando così oltre ai luoghi comuni tanti protocolli che vengono standardizzati e tendono a creare molta terra bruciata o carenze conoscitive. Quindi grazie mille per questa opportunità, è stato un vero piacere essere qua oggi e sono curioso di vedere cosa ci attende il pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.